Salgono 5 le persone coerrate da Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale gravata su minori nel processo al Tribunale di Enna. La sentenza è attesa per il prossimo 10 gennaio. Tre giornalisti querelati tra quelli che si sono occupati in prima linea della vicenda, da Enna a Savona e Ferrara, per diffamazione e diffusione di atti procedurali. Rugolo ha anche querelato Antonio Messina, il giovane che aveva denunciato il prelato tre anni fa. Insieme a Messina, da ultimo, sono state rinunciate un'altra giornalista di Enna, Emanuela Acqua e Federica Thurn, che da oltre un anno conduce un'inchiesta sulle violenze nell'ambito clericale finanziata dai lettori su Domani. Come nel caso di Pirelli Salizzo, querelata da sacerdote due volte per diffamazione e diffusione di atti procedurali, la procura di Enna ha chiesto l'archiviazione, ma il gale di Rugolo ha presentato opposizione. La Rizzo comparirà davanti al GUP il 19-21 marzo 2024, mentre l'udienza per Antonio Messina e Emanuela Acqua è fissata per il 28 maggio 2024. Non si conosce ancora l'esito della denuncia fatta alla Thurn, presentata presso la procura di Ferrara, spostata poi a Savona ed infine approdata alla procura di Enna. Di fatto tutti quelli che si sono occupati della vicenda Rugolo sono stati querelati, tra questi anche Francesco Zanardi, presidente della rete d'abuso, l'unica associazione italiana di sopravvissuti ad abusi clericali. Ad oggi tutte le querele presentate da Rugolo sono state ritenute prive di fondamento sia dalla procura di Enna che da quella di Savona, dove ha sede l'associazione rete d'abuso. Fin dall'inizio dell'inchiesta intorno a me e intorno a chi mi sostiene è stato creato un clima avvelenato, dice Antonio Messina, e mentre i legali di Rugolo in un articolo apparso sul giornale online di Enna si dichiarano ottimisti sull'esito della sentenza, io sono in possesso di un audio nel quale l'interlocuteore, che poi è un giornalista, sostiene di essere a conoscenza dell'esito della sentenza, tanto da avere già predisposto l'articolo. Questo audio verrà messo a disposizione della magistratura, nella quale ripongo piena fiducia. Salgono a 5 le persone querelate, quindi da Giuseppe Rugolo. Era il 2009 quando l'Espresso pubblicò alcune inchieste su accusi di abusi sessuali di appartenenti all'istituto Provolo di Verona. Negli anni sono arrivate altre inchieste giornistiche e giudiziarie che hanno accusato appartenenti all'istituto sia in Italia che in Argentina. A fine ottobre sul sito del settimanale è stato pubblicato un articolo in cui è stata data la notizia che in Argentina sono stati condannati ad oltre 45 anni di carcere sacerdote accusati di abusi, mentre in Italia è arrivata la mannaia della prescrizione. La Corte Suprema di Giustizia di Buenos Aires, che equivale alla nostra Cassazione, ha confermato in via definitiva le condanne per i primi tre religiosi finiti sotto accusa. Dovranno scontare pene comprese tra 18 e 45 anni di reclusione. In Italia nessuno ha pagato, zero condanne, anche se le sentenze argentine spiegano che le violenze sui minori sono continuate per almeno 50 anni ed erano iniziate in Italia. Dove però l'unica inchiesta giudiziaria si è chiusa sul nascere senza neppure un indagato, grazie alle norme italiche sulla prescrizione dei reati, riporta l'Espresso. Inchiesta del 2016, avviata grazie alle denunce di rete l'abuso. Le indagini argentine sono iniziate nel 2015, dopo la scoperta che uno dei sacerdoti denunciati a Verona era diventato direttore del collegio della provincia di Mendoza. Questo processo ha riguardato fatti avvenuti tra il 2005 e il 2016 a danno di 11 bambini sordi o ipudenti, quando avevano tra i 5 e i 17 anni. La maggior parte delle vittime proveniva da famiglie povere che le affidavano ai collegi. I direttori del provolo reclutavano i bambini sostenendo che il loro era un istituto modello, ha sottolineato la Corte Suprema in un comunicato. I giudici hanno inflitto 45 anni di reclusione nel prete argentino Orasio Hugo Corbaccio Blanc, ex direttore di Mendoza. 42 al suo vice, il sacerdote italiano Nicola Bruno Corradi Soliman, già attivo a Verona. 18 anni ad Armando Ramon Gomez Bravo, un dipendente dell'Issiuto Religioso. All'arresto è sfuggito un altro sacerdote italiano, Eliseo Pirmati, che nel 2017 è scappato dall'Argentina, rifugiandosi nella sede del provolo a Verona, dove è stato poi filmato dall'Espresso. Proprio quell'anno, Papa Francesco, il pontefice italo-argentino, ha rimosso la dirigenza e commissariato l'Istituto Provolo, conclude l'articolo pubblicato dall'Espresso. Papa Francesco, il 27 ottobre, ha derogato la prescrizione di Cisaro di Castero per la dottrina della fede nell'ottobre 2022 sui presunti abusi commessi su diverse religiose ed ex-religiose da Don Marco Rupnik. Siamo state molto sorprese dal comunicato della Santa Sede, nella quale il Santo Padre chiede di esaminare il caso Rupnik al di Castero per la dottrina della fede e deroga la prescrizione per consentire lo svolgimento di un processo che possa rendere giustizia alle vittime. Speriamo che questo sia un passo idoneo per vedere riconosciuto la verità. Siamo in attesa di ulteriori sveluppi. Questa è la dichiarazione che cinque delle persone offese da Don Rupnik hanno voluto rilasciare al quotidiano domani. A firmare sono quattro ex-orelle della comunità Loyola di cui Rupnik era il consigliere spirituale nei primi anni 90, Gloria Branciani, Miriam Kovac, Vida Bernard, Mira Stare e una religiosa che appartiene ancora alla comunità, Jojika Zupancic. Le prime quattro avevano già scritto insieme a Fabrizia Raguso, un'altra ex-suora della comunità Loyola, una lettera aperta a Papa Francesco, in cui dichiaravano di sentirsi profondamente offese dalla relazione finale della visita canonica al centro Aletti, che in sostanza riabilitava la figura di Rupnik, fondatore e mentore del centro di Roma. Gloria Branciani e Miriam Kovac sono uscite dall'anonimato e hanno reso pubblico il nome con cui avevano affidato a Domani le loro testimonianze, quasi un anno fa. Gloria Branciani, infatti Anna, che aveva raccontato in una lunga intervista gli abusi sessuali di coscienza subiti da Rupnik per nove anni. E Miriam Kovac e Esther aveva raccontato i suoi tentativi di denunciare gli abusi di Rupnik alle autorità ecclesiastiche a partire dal 1993. Il coordinamento contro gli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili Italy Church2 ha accolto favorevolmente la decisione del Papa di riaprire il processo. La deroga alla prescrizione è certamente la condizione per chiarire le responsabilità di Rupnik e per disegnare un debito percorso di giustizia per le vittime si legge nel comunicato, ma le parole non bastano. Ora, continua Italy Church2, ci si aspetta che il processo arrivi in tempi brevi sia nel segno di una effettiva trasparenza e non si trasformi in un processo alle vittime che dovranno essere informate e coinvolte direttamente nel procedimento. La lettera aperta di Italy Church2 si può sottoscrivere mandando una mail a postmaster.italychurch2.org Fa discutere il caso della Svizzera dove sarebbero stati distrutti documenti secretati contenuto negli archivi dove vengono custoditi gli atti dei processi penari ecclesiastici e tutto ciò che riguarda l'abuso sessuale di minori al di sotto dei 16 anni. A vent'anni dalle denunce di Gerardo Falcioni, ormai adulto, che per anni ha denunciato inutilmente le violenze subite da bambino, autore del libro Il Banco di Prova della Vita sono stato abusato all'edà di 5 anni edizioni Mount Village 2002, la Conferenza dei Pescovi Svizzeri, la Conferenza Centrale Cattolica Romana e la Comunità Religiosa Cattolica della Svizzera hanno incaricato una commissione indipendente dell'Università di Zurigo di indagare sulla realtà degli abusi in tutte le sei diocesi della Confederazione. I ricercatori, un team guidato da due donne, Monica Domman e Marietta Meyer, hanno potuto consultare liberamente gli archivi ecclesiastici, compresi quelli segreti, a cui ha accesso soltanto il bescovo e in cui vengono conservati gli atti dei processi penari ecclesiastici e quindi anche tutto ciò che riguarda l'abuso sessuale su minori di meno di 16 anni, considerato reato in materia di costumi. Molti di questi archivi, però, è stato scoperto, risultano lacunosi e frammentari per diversi motivi, non ultimo la distruzione di parte dei documenti secretati. Ai ricercatori non è stato invece permesso visionare i documenti depositati all'Annunziatura Apostolica e al Dicastero per la Dottrina della Fede, segno, quanto mai evidente, della non disponibilità del Vaticano a una politica di reale trasparenza sulla questione degli abusi, al di là di tutte le dichiarazioni di tolleranza zero fatte da Papa Francesco. Ed è proprio a Lugano che i ricercatori zurichesi si hanno avuto le difficoltà maggiori nel ricostruire i casi di abuso a causa della distruzione di interi archivi segreti contenenti i casi riservati. Nel 1995, secondo quando riporta una lettra dell'allora vicario generale al Nunzio Apostolico, il vescovo Eugenio Corecco ha dato l'ordine a un sacerdote di bruciare il contenuto dei suoi cassetti. Il sacerdote in questione, contattato dal gruppo di ricerca, ha però negato di avere distrutto la corrispondenza sui casi di abuso sessuale. Quattro anni dopo, un altro prete, già cancelliere diocesano, ha eliminato in dieci mesi ben cento anni di carte riservate. Un impegno che ho svolto con il criterio evangelico della misericordia, scrive in una nota alla diocesi, togliendo tutti quei documenti che gettassero anche un'ombra sugli interessati. Il diritto canonico, infatti, consente che gli atti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, come gli abusi sessuali sui minori, possano essere distrutte se i re sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna. Una norma che certo non agevola la trasparenza. Le gravi lacune trovata negli archivi ecclesiastici di cinesi si sommano alla mancanza di un'associazione di sostegno alle vittime di lingua italiana, come invece accade nella Svizzera francese e tedesca, e residuiscono l'immagine di una comunità in cui ancora oggi vige il silenzio sulla pedofilia dei preti. Non stupisce quindi che la commissione diocesana di esperti sugli abusi sessuali in ambito ecclesiale sia stata contattata in sette anni soltanto da quattro persone. Un dato, sottolinea il report, verosimilmente non dovuto al fatto che in Ticino si sono verificati pochi casi, ma che evidenzia piuttosto una forte riluttanza da parte delle persone offese a denunciare i casi di abuso alla commissione ticinese. La diocesi cattolica di Baffalo ha annunciato martedì la promessa di donare almeno 100 milioni di dollari alle vittime di abusi sessuali. La diocesi afferma che con l'aiuto delle parrocchie e di altre entità cattoliche affiliate creerà un fondo di compensazione di almeno 100 milioni di dollari. La diocesi afferma inoltre che il totale non include soldi dell'assicurazione. Secondo i documenti ufficiali del Tribunale, la diocesi contribuirebbe con tutte le sue liquidità e probabilmente dovrebbe vendere il Catholic Center sulla Main Street di Baffalo e il Christ the King Seminary a Campus a Est Aurora. La diocesi ha lasciato una dichiarazione dicendo in parte riconosciamo che onorare questo impegno sarà impegnativo ma è assolutamente necessario che facciamo tutto ciò che è in nostro potere per rimettere le cose a posto, per andare oltre questo capitolo oscuro della nostra storia e andare avanti mentre insieme lavoriamo per ricostruire e rinnovare la nostra chiesa. La diocesi di Siracusa intanto ha aggiunto un accordo simile promettendo 100 milioni di dollari a favore delle vittime di abusi. Per questa edizione è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento è per sabato prossimo ore 12 avete l'abuso news vi auguriamo un buon weekend per averci seguito Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza stampa, purtroppo abbiamo accumulato per i motivi di controlli di sicurezza e di accrediti un notevole ritardo, quindi dovremo essere particolarmente sintetici. Io sono Riccardo Maggi, sono un deputato italiano ed è per me un onore ospitare oggi questo momento qui, ospitare Mark Rozi, della cui attività sicuramente sarete informati, ospitare nel Parlamento italiano un momento di informazione su un tema che si è rivelato negli anni essere un problema sistemico e strutturale per la Chiesa Cattolica nel mondo. Oggi come è noto c'è una riunione, un consesso dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo su questo tema. Papa Francesco ha questa mattina in apertura annunciato un impegno perché si esca dalle condanne generiche e si facciano dei fatti concreti. Di fatti concreti le persone che sono a questo tavolo ne aspettano da molti anni nei loro vari ruoli perché tutti combattono in prima linea contro gli abusi sui minori da parte di membri del clero e purtroppo finora però se ne sono visti pochi. C'è stato un aumento dell'attenzione su questo tema e su questo problema ma restano questioni aperte molto gravi, io ne cito solo una, quella che riguarda il fronte della giustizia e degli obblighi per i membri del clero di denunciare fatti di cui vengono a conoscenza. Solo per dire i due paesi che sono rappresentati qui, l'Italia e gli Stati Uniti, da questo punto di vista vedono e vivono delle criticità enormi. Io voglio lasciare la parola per il tempo che ci rimane, non è moltissimo, agli amici che sono qui, ai nostri ospiti che faranno anche le loro valutazioni su quali sono le loro aspettative da questo appuntamento che si sta svolgendo in Vaticano. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora io inizierei un attimo spiegando e separando i ruoli dello Stato dalla Chiesa. Lo faccio con un esempio molto semplice e diretto. Prego. Sono Francesco Zanardi, presidente dell'Aretlabuso. Lo faccio con un esempio molto semplice e diretto. Bene, voi siete tutti giornalisti. Se fra voi giornalisti c'è il giornalista pedofilo, l'ordine dei giornalisti istituisce un tribunale per processarvi? No. Questo viene denunciato alla magistratura. Ora la domanda è questa. Perché la Chiesa dovrebbe gestire la questione pedofilia? La questione pedofilia non è questione di religione, sono crimini. La pedofilia, secondo me e secondo i colleghi e secondo la logica, va gestita e giudicata dai paesi dove i crimini vengono commessi in base alle leggi e alle regole di quei paesi. Detto questo, cominciamo a parlare appunto col problema italiano. Il problema italiano purtroppo è emerso anche il 22 e il 23 gennaio scorsi presso l'alto commissariato delle Nazioni Unite di Ginevra, dove ero presente con il mio avvocato. Dopo una serie di lacune che noi abbiamo denunciato alle Nazioni Unite sulla base della Convenzione per la tutela dei minori, la prima cosa che è uscita, la prima accusa è stata diretta alla magistratura italiana. Una magistratura accusata dalle Nazioni Unite di non fare indagini e di avere un atteggiamento veramente molto molto blando nei casi di condanna. Ma nei casi di condanna, poi espanderò un po' dopo, perché c'è un'indagine notevole fatta da Emanuele Provera e da Federico Tulli su dove vanno a finire i sacerdoti pedofili condannati in Italia. Bene, hanno interrogato le 191 carceri italiane, attualmente in carcere abbiamo 5 sacerdoti soli, uno condannato per pedofilia. La nostra associazione ha censito 300 casi di abusi sessuali negli ultimi 10 anni, di cui 144, e questo è solo quello che è uscito sui media, quindi il sommerso non lo conosciamo, 144 di questi casi sono stati condannati in via definitiva. Ci sono dei vuoti enormi, la Chiesa si muove generalmente, ad esempio a livello di conferenza episcopale, si muove sulla base delle leggi del Paese. Per esempio in Italia la Chiesa non impone l'obbligo di denuncia, in Francia si, perché lo impone in Francia e in Italia no, perché in Italia lo Stato non obbliga i vescovi a denunciare questi casi di abuso, in Francia invece si, quindi vediamo che c'è un vuoto legislativo che va riempito. Poi ci sono un'altra serie di problematiche che sono emerse in sede delle Nazioni Unite, ovvero anche un'istruzione nei confronti dei minori su quello che è giusto che accada e quello che non è giusto che accada, ovvero il minore è il primo a rendersi conto se sa riconoscere un abuso sessuale o qualcosa che non va, è il primo che può dare allarme. Servirebbe istruire in qualche modo i minori, in modo che possano, diciamo, riconoscere quello che è sbagliato e possano intervenire e difendere. Lo Stato italiano è importante che faccia, come è accaduto in tutti i Paesi più industrializzati del mondo, una commissione di inchiesta e quantifichi l'entità del fenomeno, perché in Italia non esiste un dato riconosciuto dallo Stato, un dato pubblico, tranne quello che forniamo noi come associazione, su quanti siano i casi di pedofilia. Poi, vabbè, si chiede di garantire indagini trasparenti, eccetera, eccetera. C'è un altro punto molto importante che è quello del certificato antipedofilia introdotto dietro alla carta di Lanzarote, un certificato che in Italia è stato applicato sollevando dall'obbligo di esibirlo tutto il mondo del volontariato, che comprende anche i sacerdoti. E purtroppo però il mondo del volontariato è quello che storicamente da sempre è più a rischio. Ora, anche riguardo il certificato antipedofilia, che andrebbe espanso appunto anche al volontariato e ai sacerdoti, c'è un altro problema. Se la Chiesa non denuncia all'autorità giudiziaria i crimini commessi dai sacerdoti, anche l'autorità giudiziaria non può produrre un certificato antipedofilia che sia corretto. Sulla bancanza di una commissione d'inchiesta in Italia abbiamo cercato di ottenere dei dati e il collega irlandese, sulla base dei paesi che hanno fatto commissioni d'inchiesta governative, sulla base della popolazione e sulla base dei sacerdoti che sono in quei paesi, ha stilato una proiezione e in Italia potremmo avere fino a un milione di vittime. questo è un dato che lo Stato deve sicuramente andare a vedere, andare ad accertare. prego. Grazie Tim, apprezzato. Salve a tutti, io sono Simone Padovani, sono un membro fondatore dell'associazione ECA Global, la quale è un'associazione, sono quindi come rappresentante, è un'associazione che cerca di unire a livello globale le varie associazioni, quindi Bishop Accountability, Snap e varie, nel tentativo appunto di dare una visione più ampia e globale di quello che è appunto la problematica, tale è la dimensione in questo momento. ECA, da questo punto di vista, il messaggio che vuole portare in questa situazione è proprio quella che è arrivato il momento di rendere effettive tutte quelle che sono state le pratiche sinora promesse, ma mai mantenute a livello del Vaticano, ma anche e soprattutto nel caso italiano a livello sia legislativo che a livello di governo, in quanto si tratta di applicare appunto delle nozioni e delle indicazioni che sono già fornite dalle Nazioni Unite. In quanto rappresentante appunto di ECA Global qui presente, di cui membro fa anche parte Francesco Zanardi e anche altri qui presenti, il messaggio che volevamo appunto portare è che in questi giorni quello che è richiesto ed è necessario è esattamente che venga fatto qualcosa di concreto e i mezzi e i passi per farlo sono già tutti esistenti. Papa Francesco sarebbe in grado in pochissimo tempo di riuscire a costruire e a consegnare una legge universale che forzi i vescovi e i cardinali che siano a conoscenza di un abuso appunto a riportarlo alle autorità civili. Questo sarebbe il primo passo per poi poter proseguire invece ad un'educazione, ad una valutazione di quello che è il fenomeno globale che grazie a quello al lavoro che stanno facendo con Bishop a Contability e SNEP di raccolta dati e quant'altro abbiamo un quadro veramente terrificante di quella che è la situazione mondiale. Detto questo chiudo personalmente il mio intervento anche perché il tempo è poco, faccio una comunicazione, il deputato Riccardo Maggi è dovuto uscire prima perché appunto aveva una votazione in corso e quindi si scusa per non essere potuto essere presente qui sino alla fine. Grazie a tutti. tacita complicità che esiste tra lo Stato italiano e la Chiesa, una Chiesa che in Italia negli ultimi vent'anni di scandalo non è riuscita a produrre nulla per le vittime ma è riuscita a costruire 21 strutture della Chiesa sul territorio italiano dove la stessa magistratura affida i sacerdoti agli arresti domiciliari, strutture che non hanno un regime carcerario, strutture dalle quali per esempio l'anno scorso Don Ruggero Conti condannato a 15 anni per aver abusato di otto bambini si è preso tranquillissimamente un taxi da Roma a Milano quindi circa 3.000 euro di taxi che evidentemente aveva in tasca essendo in carcere no? E quello che dicevo prima appunto la verifica che hanno fatto Tulli e la Provera per vedere quante persone erano in questi carceri e quante in realtà erano in queste strutture ha portato al risultato che attualmente nelle carceri italiane abbiamo un solo sacerdote pedofilo. Scusate, volevo solo chiarire questo passaggio. Thank you Francesco. Chiudo ancora sulla cosa importante, è una riflessione questa. Ora tutto quello che sta accadendo è solo per una questione di competenze, non è grazie alla Chiesa se questo scandalo oggi emerge è grazie alle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare in tutto il mondo. La Chiesa sta solo reagendo a questi attacchi e vi ricordo che solo dieci anni fa le vittime che denunciavano erano diciamo etichettate come persone che volevano fare del male alla Chiesa. Quindi al momento non c'è un cambiamento da parte della Chiesa, la Chiesa è costretta di fronte a dati endemici e palesi a reagire o far finta di reagire come ha fatto fino adesso perché la tolleranza zero di Papa Francesco al momento è solo un proclama. Non abbiamo visto alcun vescovo denunciare alcun prete pedofilo, non abbiamo visto ancora da parte del Papa rimuovere alcun cardinale, vescovo o via dicendo, tutti quelli che sono stati rimossi sono stati rimossi perché loro stessi hanno chiesto la riduzione o le dimissioni e il Papa le accettate, che cosa ben diversa. Grazie. If there's any questions we could take them now, if they're... Go ahead. Mr. Malio from Associated Press. Faccio la domanda prima in italiano poi in inglese se qualcuno volete. E dato che in Italia la Chiesa cattolica è così, diciamo, intrecciata con la politica italiana, cosa, parlando in modo realistico, cosa deve succedere in Italia per, diciamo, cambiare le cose? e in inglese, diciamo, siccome in Italia la Chiesa cattolica è così incontrata con la politica italiana, cosa davvero deve succedere per fare qualcosa di cambiare, in modo che il signor Zanardi parlava di parlare, in Italia. Allora, in Italia, come abbiamo, come ricepiamo anche dalle raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite, raccomandazioni fatte in realtà sul mio report mandato a Ginevra, dove ho documentato le lacune italiane e le Nazioni Unite semplicemente hanno ravvisato che le nostre lamentele erano fondate. Ora, è vero che la giustizia in Italia non funziona, è anche vero che è necessaria assolutamente una modifica dei patti lateranensi, perché all'articolo 4.4 dei patti lateranensi i Vescovi, a meno che non siano personalmente indagati, possono addirittura rifiutarsi di rispondere alla magistratura, nel protocollo addizionale paragrafo 2,b, la magistratura si impegna a comunicare alla Chiesa l'apertura di un fascicolo su un prete, cioè io praticamente magistrato indago su uno di voi e vi dico, guarda che sei indagato, così tu hai tutte le possibilità di far sparire i testimoni, comprarteli come fa la Chiesa tranquillamente, perché questo è quello che accade, le tariffe della Chiesa per comprare le vittime partono dai 15 mila euro e concludono a 30 mila euro, quindi non sono risarcimenti, è comprare il silenzio delle persone. Federico Tulli del settimanale Left, lei ha sottolineato l'esistenza di un accordo tra Stato e Chiesa in Italia, per cui i Vescovi non sono tenuti a informare l'autorità giudiziaria nel momento in cui ricevono una denuncia, quindi in un certo senso l'obbligo di denuncia che si chiede ai Vescovi viene impedito non tanto dalle loro linee guida quanto proprio da un accordo tra Stato e Chiesa, se ho capito bene. La seconda cosa, quindi non so se può approfondire meglio, la seconda cosa è nel 1962 e poi nel 2001 la congregazione per la dottrina della fede ha emanato due documenti, il primo, il crimen sollicitazioni, si è rimasto segreto per quasi 40 anni, il secondo è stato emanato da Joseph Ratzinger quando era capo della congregazione per la dottrina della fede e un punto essenziale di questi documenti riguarda il segreto pontificio a cui sono sottoposte tutte quante le procedure che riguardano appunto crimini particolarmente gravi in cui rientrano gli abusi compiuti durante la confessione. Quindi quando Bergoglio parla di tolleranza zero secondo lei vuol dire che eliminerà prima o poi il segreto pontificio per dar modo anche ai Vescovi poi di darsi l'obbligo di denuncia? Ma io non capisco come Bergoglio oggi possa parlare di tolleranza zero intanto quando questi due documenti sono tuttora in vigore e sono due documenti che contrastano nel pratico davvero con la tolleranza zero. Io comunque sì ritengo che per carità l'unica funzione, l'unica competenza della Chiesa in questa materia sia quella di comunicare all'autorità giudiziaria del Paese dove i crimini vengono commessi, i crimini. È molto semplice, poi la Chiesa ripeto sotto l'aspetto spirituale non ho nulla in contrario che faccia i propri processi canonici ma come è emerso dalla nostra avvocatura in più occasioni purtroppo i processi canonici che generalmente non vengono fatti, guarda caso si avviano quando la magistratura avvia delle indagini. Bene, in questi processi canonici con la scusa di dare giustizia alla vittima il Tribunale canonico acquisisce invece dalla vittima le peculiarità diciamo dell'episodio, peculiarità che poi vengono portate in un'aula di Tribunale. Ora anche qui la Chiesa è abbastanza truffaldina su questo punto perché in realtà la Chiesa quando avvia i processi canonici e parallelamente c'è un processo penale non dà mai la sentenza finché non c'è la sentenza del processo penale e vi spiego il perché. Perché la Chiesa se desse una sentenza su un prete in sede canonica questa verrebbe portata in sede giudiziaria e sarebbe un'ammissione di colpa della Chiesa. Quindi la Chiesa se vuole trasparenza sia realmente trasparente, questa non è trasparenza questo è prendere in giro fedeli, cittadini, vittime e chiunque altro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!